ciao ragazzi bentornati su reparto corse tv in altri video abbiamo parlato dei filtri aria a pannello e degli airbox sportivi magari sarebbe bello sapere quali preferite e in questo video vorrei approfondire un aspetto dei filtri aria in carbonio quindi airbox innanzitutto diciamo che gli airbox in carbonio sono sicuramente migliori della scatola filtro di serie che è realizzata in plastica in alcuni casi però abbiamo la possibilità di scegliere tra l'airbox in carbonio specifico per un modello di auto oppure un airbox universale questo è un airbox universale ha un tubo che possiamo tagliare e mettere magari dall'altra parte o da tutte e due le parti e abbiamo dei manicotti delle fascette che ci aiutano ad adattarlo a vari modelli di auto delle volte può essere molto molto semplice altre volte è parecchio complicato in caso di dubbio conviene chiedere prima dell'acquisto però per alcuni modelli di auto ci sono dei kit specifici quindi creati dal costruttore insomma dei filtri per un determinato specifico modello di lettura quindi con quella cilindrata con quei cavalli quando è come posso dire disponibile ecco sul mercato questa possibilità sicuramente io consiglio di sceglierla per due motivi perché un filtro in carbonio specifico per una determinata auto ci garantisce uno delle prestazioni quindi non dobbiamo noi scegliere la misura del filtro universale spesso parlo per esempio di bmc e di sparco ci sono più misure di filtri tra cui scegliere addirittura per bmc più tipologie tre per la precisione quindi possiamo commettere degli errori se non ci facciamo guidare nel caso invece del filtro specifico quindi un air box sostitutivo specifico noi siamo tranquilli che la misura migliore è stata già scelta dal da chi ci fornisce il filtro in secondo luogo l'installazione è molto molto semplice molto agevole dentro c'è tutto il necessario non dobbiamo inventarci nulla non dobbiamo comprare altre fascette altre riduzioni altri tubi quindi sicuramente dove disponibile io vi consiglio il filtro specifico per il vostro modello di auto e volevo invitarvi a iscrivervi a nostri canali social ce ne sono tanti quindi youtube instagram facebook e tik tok e vi invito anche a visitare il nostro sito www.repartocorse store.it perché sicuramente troverete tante cose interessanti al prossimo video ciao